Grazie a tutti, ho già stato qui al circolo con Radio Capital, due o tre anni fa non ricordo più, oramai la mia età si dimentica tutto, quindi vi ringrazio di essere venuti, capisco che è un'ora, una bella giornata, non c'è niente in televisione, quindi è giusto che siete venuti qua, io ringrazio davvero moltissimo voi, il circolo, Paolo, Claudia e ringrazio il mio collega e amico da anni, Martinetti, con il quale abbiamo condiviso un appartamento, perlomeno una casa a Mosca, ma lui è arrivato quando la vita era facile, questi giovani hanno sempre avuto la vita facile, io mi sono fatto la vera unione soliettica, quindi grazie e do subito la parola al mio amico ed ex collega, io ho lavorato 15 anni alla Busiarda, quindi un pezzo del mio cuore è sempre rimasto alla stampa. Vittorio giustamente si è presentato da solo ed è inutile che perdiamo tempo a ricordare uno dei grandi giornalisti italiani, dei grandi raccontatori del mondo, un giro del mondo che è partito da Torino, via Marenco 32, dove ha cominciato la sua seconda vita giornalistica, però di fatto forse quella più la vera, prima ero stato al Corriere d'Informazione... No, 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 ero stato alla notte. Alla notte, la notte. Perché al Corriere d'Informazione aveva lavorato mio padre, io non volevo mai lavorare per lo stesso giornale, perché poi già era comandato, figlio di papà, quindi... No, via Marenco 32, non c'entra col libro, anche se parlo un po', dove andai per puro caso, io avevo smesso di fare questo mestiere, per il bene anche del giornalismo, volevo fare l'assistente universitario di storia, così rovinavo qualche generazione, e venne una persona a casa mia, era un giornalista della stampa, si chiamava Remo Lugli, era un importante inviato di interni, che era amico di mio padre, dagli anni di Modena, mi disse, ma tu cosa fai? No, io oramai ho lasciato, ma no, ma perché? C'è un nuovo direttore della stampa, si chiama Alberto Ronchei, sta cercando dei giovani da formare, provaci... La stampa era un giornale che aveva un'ottima fama, un giornale serio, allora io te la faccio cortissima, arrivai in via Marenco, a stampa avevo questo giornale molto per bene, mi ero comprato una bellissima grisaglina, un completo di grisaglia, io di solito, come diceva Guareschi, sono sbraccato anche quando sono nudo, ma quello era un vestitino perfetto, la camicina bianca, la gravata, fermo la macchina, parcheggio, venivo da Milano, attraverso la strada per entrare a Porte di via Marenco, un piccione mi caca sulla spalla, ma io non lo so, un piccione doveva essere un tacchino, perché una caca, ma... infatti, allora io che devo andare a incontrare il direttore di un giornale nuovo, importante, allora vado nel bagno lì all'ingresso della cosa, cerco disperatamente di pulirmi, ma mi resta naturalmente la chiazza bagnata e la persona che mi accompagnava disse vedrai che avrai fortuna perché la caca di piccione addosso porta fortuna, beh ebbe ragione, ebbe ragione. Bene, e cominciasti in redazione, ma mi pare sbaglio... Sì, 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 no, cominciai, allora, io mi ero laureato in storia moderna, ho studiato su anarchia, sindacalismo, un po' la storia delle sinistre europee nell'ottocento, e allora ho detto vorrei occuparmi di interni, sì, certamente, quando comincio? In settembre, torno in settembre, il capo degli interni si chiamava Giovanni Trovati, un vecchio giornalista, allora il capo redattore dice ecco ti presenti il tuo capo servizio, mi presenta un omino tutto un po' nervoso, dico ma come si chiama questo? Calcagno, calcagno, ma scusa, cosa c'è? No, io sono il capo degli spettacoli, il capo degli spettacoli, sì ti abbiamo messo gli spettacoli, ma io non voglio fare gli spettacoli, non mi importa niente, mi miso a lavorare agli spettacoli, in cui dovevo passare i pezzi degli altri, e in particolare dovevo occuparmi dei programmi della radio e della televisione, ma non facendo delle grandi critiche perché ero nessuno, facendo ore 15 giornale radio, ore 15 e 15 previsione del tempo, televisione, allora c'erano i promessi sposi, il romanzo sceneggiato, riassunto della prima puntata, in due righe, giovane coppia di innamorati lombardi vorrebbero sposarsi ma il signorotto locale glielo impedisce, questo era il risunto della prima, e io non ne potevo più di questa cosa, me ne volevo andare, per vendicarmi infilavo dentro nei programmi, cose che si fanno solo quando siamo a vent'anni, delle parolacce, in modo che costringevo il caposervizio a leggersi tutti i programmi, erano due colonne interi di programmi, prima RAI 1, per esempio ore 16, problemi di agricoltura, ore 16 e 30, quelle troie delle contadine, allora questo povero uomo che era tra l'altro religiosissimo, doveva leggersi tutto e correggere, alla fine si arresero, mi passarono agli esteri, insieme con Paolo Garimberti che forse conoscete, è stato un grande giornalista, direttore del TG2, e lì agli esteri un giorno arriva il direttore, Alberto Ronchei, e dice chi di voi parla il tedesco? Un silenzio tombale, io per la verità l'avevo studiato anche bene, ho trascorso vari estati in Germania, alzo la manina, io direttore, ah bene, vogliamo aprire un ufficio di corrispondenza a Vienna, allora non si può dire la roba dell'est, si faceva da Vienna, magari mandiamo tè. In effetti passano alcune settimane, va via il corrispondente da Mosca della stampa, che si chiamava il mio caretto, viene mandato Paolo Garimberti, che sapeva di Russia, come io so di, non so, di Marte, a parte che il pianeta rosso, e poi si liberò l'America, no, si liberò Bruxelles, perché caretto, insomma liberò Bruxelles, disse vacci tu, dico scusa cosa c'entra col tedesco Bruxelles, parlano francese e olandese, Fiammingo. Beh, per una comunità europea il tedesco è importante, aveva ragione, parliamo di anni fa, e quindi finì a Bruxelles e da lì cominciò la mia vita all'estero. Abbiamo cominciato così un po' come viene, ma già che siamo a Bruxelles, il racconto di Bruxelles di quell'epoca, certo era un'idea d'Europa molto diversa, dalla realtà di adesso di quel che c'è. Beh, io vi parlo degli anni in cui la comunità europea, allora chiamata c'è, si ampliò l'Inghilterra, con l'opposizione dei francesi, De Gaulle non la voleva, diceva che non ci si può affidare gli inglesi, forse tanto torto non l'aveva il generale De Gaulle. Sta di fatto che vivevamo, nonostante la noia terribile, perché tutto si risolveva in soldi percentuali, i peperoni, le melanzane, si viveva la sensazione di navigare veramente col vento della storia alle spalle, stavamo creando l'Europa. Io ero sempre stato un fanatico di storia, in particolare di storia del 8-900, mi ricordo facevo delle gite, andavo sulle Ardenne, lungo la Marna, tornando verso l'Italia, sul Reno, ed ero molto colpito da vedere come sulle rive del Reno, tu ci sei stato, se giri abbastanza, tu trovi i segni di 2.200 anni di guerra, ci sono rovine romane e bunker nazisti, ci sono i morti della prima guerra mondiale, ed è una cosa che io ripeto adesso, dico ai giovani, vedo che ce n'è qualcuno qui, siete tutti giovani, dico sempre prima di dire l'Europa qui, l'Europa là, i tedeschi, l'euro, ma provate ad andare a vedere i luoghi dove i nazionalismi europei hanno richiesto il tributo di sangue in secoli e secoli e secoli per andare avanti e indietro di 10 chilometri, per conquistare una miniera di carbone, un villaggio massacrando 200-300 mila persone in un giorno di battaglia, andate a vedere questi luoghi, se volete vedere adesso che siamo tutti esaltati con il sovranismo, noi prima di tutti, provate a pensare agli anni nei quali io, forse qui sono il più anziano di tutti, per andare da un paese all'altro dovevi il passaporto, il timbro e i soldi da cambiare, la rottura di mani, di umbalagne, adesso i ragazzi di oggi, l'Europa, l'Europa, poi dice abbiamo qualche soldo da parte, sì andiamo a fare un weekend a Barcellona, andiamo a passare tre giorni a Berlino, tre giorni a Berlino, io Berlino l'ho vista come era una volta, il checkpoint Charlie, passare la frontiera, non è mica normale la situazione di oggi, non è sempre stato così, la diamo scontata perché sono cresciuti in questa situazione i ragazzi di oggi, ma io me la ricordo come era l'Europa di una volta, mi ricordo la fatica di viaggiare in Europa, passare le frontiere, quindi sì va benissimo, però ricordiamoci che quella è la storia europea, non è quella di oggi, degli ultimi 70 anni, è quella degli altri 2000 e quanti anni sono, che è la vera storia dell'Europa, di come si moriva facendo 40 chilometri perché si passava da un feudatario all'altro, da un cavaliere all'altro, quindi c'è una cosa che mi fa girare le palle quando sento i bei tempi andati, non c'erano i bei tempi andati, eravamo giovani, infatti oggi mi fa male il ginocchio e la caviglia, una volta non mi facevano male, giocavo al pallone. Però certo c'era quello spirito, perlomeno i dirigenti europei avevano e appartenevano a quella generazione che sentivano questo, adesso come dici tu sono 70 anni di pace per cui l'idea che ci fosse stata una guerra, una guerra ripetuta per 2000 anni, non ce ne ricordiamo. Perché è dato tutto per scontato, è come la salute, quando stai bene pensi che stai bene per sempre, poi appena comincia a farti male qualcosa, come dicevo prima quando si diventa vecchi, cominciano a far male delle cose che neanche sapevi di avere, avevo quella cosa lì che fa male, non sapevo di averla, non si dà più per scontato niente, però spesso poi è troppo tardi. Ecco, la serata è partita così, Vittorio ha cominciato a raccontare, io avevo immaginato di cominciare in un modo che però Vittorio mi ha aiutato, perché siamo qui per questo libro, è un'occasione in realtà per parlare con Vittorio, ma anche perché c'è questo libro che ha un titolo molto curioso, perché il lato fresco del cuscino effettivamente è un'espressione direi alla Zucconi, direi così. Ma quando io ho visto il titolo ho detto ma che vuol dire il lato fresco del cuscino? È bello, suggestivo, fantasioso, ma che vuol dire? E poi nelle prime pagine lui lo spiega, io direi che il modo con cui lui ci ha raccontato queste cose, siamo passati dall'Unione Europea al Piccione che è intervenuto nel primo giorno di Via Marenco, siamo passati ai programmi della televisione, ecco, forse il lato fresco del cuscino e questo modo di raccontare in cui c'è sempre un aspetto umano, concreto, c'è sempre la ricerca di una cosa che ci sia vicino. Questo vale sia per i grandi racconti nelle grandi situazioni o nelle situazioni drammatiche, ne hai vissute tantissime, sia in queste. Lo spiego anche nel libro, da cosa nasce questo libro. Io era un po' che non scrivevo libri, mi ero stufato di scrivere, ne ho scritti e come tu sai il problema non è scrivere libri e pubblicarli, diciamo, scrivere libri, erano pubblicati 13, 14, non ricordo più, non volevo più scriverli. Avevo anche paura di affrontare la fatica perché non è come scrivere un articolo, insomma, quando cominciano ad avere davanti l'idea di scrivere 200, 250 pagine, sono tante. Poi la sera dell'8 novembre del 2016, mia moglie e io siamo di fronte al televisore come milione di americani, è il giorno del voto, la presidenza, e noi guardiamo sbalorditi. Io l'avevo un po' visto arrivare, avevo anche scritto qualcosa al riguardo, vediamo eleggere il Presidente degli Stati Uniti questo inverosimile personaggio, questo pannocchione con in testa questa specie di puzzola, non so, io sono anche un po' dal tonico, color carota, Donald Trump, anzi Donald Trump, come bisogna dire noi che abbiamo fatto le vacanze in Svizzera, perché ho Donald Trump, mia moglie si mise a piangere. Io fui colto da una sensazione profondamente depressiva, dicendo ma come può questo paese, il paese che ha dato al mondo tante cose, anche pessime, anche negative, avere letto questo inverosimile personaggio che dice pubblicamente che lui mette le mani addosso alle donne, che tutte le donne sono pronte a buttarsi a letto con lui, perché lui è uno rito, che non ti dice quanto guadagna, che tiene nascosti i suoi guadagni, i suoi affari, in un paese dove in teoria ti fanno la radiografia, la risonanza magnetica, la cronoscopia, la mammografia, tutte le dichiarazioni che fai, e poi io magari non ne vedrò più un altro. Oramai alla mia età non è che uno dice sarò vivo tra nove anni, magari sì, me lo auguro, però questa è l'America nella quale io sono venuto a vivere per mia scelta, perché oramai io sono lì da anni perché ci voglio stare, nessun giornale mi obbligo a starci, potrei andarmene quando voglio, non ho nessun problema, in cui ho deciso di far crescere i miei figli, in cui i miei figli hanno fatto dei nipoti che sono nipoti americani e quindi la mia famiglia è lì, i miei sei nipotini sono americani, abbiano o no un cognome italiano come tre di loro. La mia risposta a questa che credo somigliasse molto a una fase di depressione, non voglio dire clinica, è una parola grossa, ma insomma, è quella, cioè cosa fa un cavallo quando ha paura? Corre. Cosa fa un cane quando ha paura? Abbaia. Cosa fa uno scrittore quando ha paura? Scrive. È una reazione fisiologica naturale, no? Allora mi misi a scrivere dicendo devo cercare come nella mia vita, nella vita di noi tutti, perché la mia vita in parte rappresenta anche periodi che abbiamo vissuto tutti, per quanto sia rovente il cuscino su quale appoggiamo la testa, io ricordo quest'estate in riviera romagnola, un caldo infernale, sudavo, la canottiera, e si voltava il cuscino e dall'altra parte era un po' più fresco, era una sensazione molto effimera, durava pochi secondi, diventava caldo, però nel frattempo se la rinfrazzava è girabile. Ecco, allora volevo cercare il lato fresco delle cose della vita, almeno delle cose della mia vita, l'unica che io conosca abbastanza bene. Da qui è venuta l'idea del libro, poi l'editrice, la persona che mi ha editato il libro, ha fatto un sottotitolo che mi ha, insomma, alla ricerca delle cose perdute, dico beh proprio Proust, no? Però insomma, ma beh. Però poi ho detto, sai, in fondo, nel primo capitolo racconto anche della mia insonnia, come mi addormentassi ascoltando mio padre che batteva sui tasti della lettera 22, come sai, il suo primo libro della ricerca, Proust racconta delle sue tremende insonnia, infatti, quindi ho una cosa in comune con Proust, ecco, venderò di meno, però comunque soffriamo entrambi di insonnia. E allora da lì mi sono venuti in mente tutti episodi legati a cose, perché riflettendoci sopra dicevo, sì, noi tutti ricordiamo le persone, gli amici, le persone che abbiamo perduto, però poi ciascuna di queste persone è spesso legata a un oggetto, a una cosa, mio nonno il suo motorino, la macchina per scrivere di mio padre, la spilla che io regalai a mia moglie, che era identica alla spilla che vedi sulla giacca di Hillary Clinton e che mi permise di attaccare bottone, ma la mia età si attacca bottone solo per conversare, Hillary Clinton è mia coetanea, quindi figurati, però grazie a quella spilla io passai del tempo con Hillary Clinton, imparai a conoscere, la ballammo anche insieme, la poverina ballò con me, per poco devo dire, quindi con tutto questo genere di cose, il videoregistratore, tu hai vissuto in una mosca diversa dalla mia, nella mosca del 1980, possedere un videoregistratore, Betamax, VHS, quelli con le cassette, vi ricordate, era spalancare una finestra sul mondo rispetto alla televisione di Stato, quindi tutte queste cose, il videoregistratore mi fa ricordare Mosca, quegli anni terribili, mia moglie sull'orlo di una crisi isterica, un giorno sì, anche l'altro, la corruzione, io che smazzando videocassette con film, non film porno, film normali, andava bene anche Sanremo, andava bene tutto, agli amici russi riuscivo a saltare la fila, avere la carne, le cose che si facevano a Mosca, e quindi ogni volta c'era comunque un lato fresco del cuscino. Ecco, andiamo, ci inoltriamo dentro quello che io chiamerei il canone Zucconi, il canone giornalistico Zucconi, possiamo chiamarlo così? Beh, cerca le cose perdute, il canone giornalistico Zucconi è questa cosa qui, è anche questa cosa qui, è il ricondurre sempre, anche dentro le situazioni, possiamo dire, più auliche, più noiose, più un grande vertice internazionale, un racconto di grandi incontri, di grandi momenti, di ricondurre poi sempre il racconto anche a degli elementi piccoli che sono la nostra vita quotidiana, che per il lettore costituiscono degli elementi di riconoscimento e di conseguenza di lettura anche appassionata. Sì, è vero, cioè questa è una cosa che ho capito, ho cercato di fare, io ho raccontato in un altro libro che tutto cominciò alle scuole medie, e quando io che ero un po' sul Cote, diciamo, Somaro, l'insegnante faceva quei temi, le similitudini in Dante, vabbè, allora io non avevo studiato le similitudini in Dante, allora facevo dei temi in cui vagamente accennavo al noto poeta toscano, Dante Lighieri, poi mi lanciavo in considerazioni sulla mamma, i morti, e la professoressa si chiamava Nicodano, la ricordo benissimo, aveva anche delle belle gambe e da ragazzini si spicciavano le gambe della professoressa sotto la scrivania, allora si faceva così, piangeva, si commuoveva e mi dava dei voti che non meritavo rispetto alla preparazione, dicevo non sai niente di Dante però mi hai fatto piangere, sette. Allora disse, aspetta, forse c'è una lezione in questa cosa, no? Forse se io riesco ad attirare l'attenzione di questa persona, a coinvolgerla, poi chi se ne frega delle similitudini, vai a cercare, le trovi tu, no? Ci sono volumi interi di studi. E questo mi disse forse è la strada che io potrò seguire da grande e che riprodussi quando poi mi laureai finalmente, il professore della statale di Milano che era il capo del dipartimento, il professor Marino Berengo, uno storico che scriveva dei libri a terza pagina svenivi dalla noia, sulle signorie, i comuni, quanti sesteri, quanti dubloni pagavano per un chilo, un guvalle, e mi assegnò una tesi, già stavo a Bruxelles per la stampa, sul fuoriuscitismo italiano nella Vienna, dopo il congresso di Vienna, 1815, in particolare Filippo Bonarroti, un anarchico italiano, e disse però voglio un lavoro di ricerca, non voglio delle pippe mentali sull'anarchia, la storia. Loro io a Bruxelles andai al Catasto, all'archivio di polizia, restando sbigottito da come erano organizzati rispetto a quello che avevo nascerto in Italia, ricostruì la vita di quest'uomo e di altri anarchici italiani, molti dei locali che loro frequentavano c'erano ancora, Bruxelles è una città molto, come sai, conservatrice, al di là delle... e io feci una specie di una grande cronaca della vita di questi fuoriusciti italiani che dovevano sfuggire alle pulizie di tutto il mondo, a quella belga, sempre vive detrás, e feci questa tesi. La consegnai, il mio relatore, il mio professore di storia di risorgimento, della Peruta, il capo, il boss era questo belengo, ascoltiamo, io avevo una media non altissima perché avevo fatto gli esami, avevo una media del 26, quindi la mia laurea poteva essere 100 come voto, no? Facciamo la cosa, il mio professore canta le lodi, il correlatore mi fa delle domande, poi diceva bene, 110 elode, 110 elode, sbigottimento nella sala. La cosa finisce lì, io me ne vado prima che dice, cazzo mi sono sbagliato, era un altro, no? Qualche mese dopo, il mio più caro amico e compagno di studi, che ha fatto gli studi con me, si era laureato con loro, uno invece molto bravo, talmente bravo che lui diventò sintaco di sezzo San Giovanni, rimpiangendo per tutta la vita da averlo fatto, incontra, aveva una media superiore alla mia, aveva preso solo 100. Incontrò questo professore e gli disse scusi professor Berenco, non che me ne freghi niente oramai, ma vorrei capire perché Zucconi che aveva una media inferiore alla mia, ha preso 110 elode, io l'avevo superiore e ho preso di meno. E quest'uomo che, non so, immaginavo un tipo alto, con quel testo da uovo, proprio testo tutto pelato, un'area tutta serissima, gli disse caro Oldrini, si chiamava Oldrini, devi sapere che io leggo decine di tesi al giorno, per la prima volta dopo anni mi sono divertito a leggere una tesi e l'ho dovuto premiare, perché non mi sono annoiato a leggere una tesi. Vedi, ebbi la conferma della stessa cosa della mia infanzia. Se riesco ad attirare il lettore e a farlo leggere, stiamo meglio tutti e due, io che scrivo e voi che leggete. Quindi questo è il canone Zucconi. Direbbe Augas che è un dono, direbbe Augas che è un dono questo, non è un merito. Quel figlio di una buona mamma di Augas, ha cantato l'elodio del mio libro, è stato molto carino, non ci conosciamo da anni, poi disse ah racconti delle cose interessanti e poi soprattutto, guarda, questo libro è scritto meravigliosamente bene, scrivi in maniera straordinaria, ma non è mica merito tuo, sei un dono di natura. Ah va bene, grazie, grazie. Come dire, sei solo alto un metro e novanta, io mica ho fatto niente per diventare un metro e novanta, mi hanno fatto così, grazie. E invece secondo me non è soltanto un dono, c'è diciamo, non lo so, uno studio, magari uno studio naturale innato, oltre a questa straordinaria capacità di racconto, di oggettivare, di andare a prendere quel dettaglio che avvicina al lettore, c'è un'altra cosa secondo me molto caratterizzante del tuo giornalismo e della tua scrittura e sono le antinomie, sono le contraddizioni. Volevo esserci, non volevo esserci, ma dovevo esserci. C'è sempre una contraddizione che poi nel, come dire, nella scuola di giornalismo si insegna che la notizia nasce sempre da una contraddizione, perché che ci sia il sole non fa notizia, farebbe notizia se nevicasse. Come la comicità del resto, no? Nasce dai conflitti, la comicità. E' vero che c'è questa ricerca di contraddizione sempre. C'è una ricerca di questo, mi piace molto scherzare con gli ossimori, il ghiaccio bollente, il caldo raggelante e poi una ricerca sempre ossessiva del dettaglio. Io sono molto colpito da, se intervisto una persona, domande, risposte, virgolette, allora lei pensa alla pace nel mondo, però magari io scopro che aveva, se una donna, un tacco della scarpa rotto, allora dice cosa c'entra con l'intervista? Niente. Però il fatto che quella donna avesse un tacco della scarpa rotto e cercasse di accavalare le gambe in modo da nascondere il fatto della tacco, io lo scrivo, perché immediatamente le donne che mi leggono, che vivono tutte ossessionate del pensiero che quegli strafottuti tacchi a spillo si rompano, immediatamente simpatizzano con quella donna che magari era in difficoltà perché si preoccupava di avere questa scarpa, magari c'era la telecamera che la inquadrava e aveva il tacco rotto e non osava alzarsi perché se si fosse alzata a 5.000 mano avrebbe traballato su un tacco solo. Allora quei dettagli spesso fanno la storia. Io racconto in uno dei capitoli, racconto di quando io conquistai, anzi liberai Kuwait City dall'invasione di Iraq, Saddam, apri poi le cattacce. Allora liberammo Kuwait City con un minivan, un minibus di quelli giapponesi che sono fatti credo di carta stagnola perché io li conosco, sono fatti per le strade di Tokyo, quindi sono tutti stretti e alti, Suzuki, eravamo una decina di giornalisti dell'esercito e partimmo verso Kuwait City mentre ancora sparavano, combattevano. Un spettacolo terribile, questi carri armati carbonizzati con i corpi dei carristi che avevano tentato di uscire ed erano rimasti a mezza strada, a brustoliti con questo odore, se non l'avete mai sentito, di carne umana. Vabbè, lasciamo perdere. E su questo autobus con me c'era Oriana Fallaci e un giornalista italiano del Sole 24 Ore, Mario Platero, che io cito perché voglio che sia testimone, se no penso che me ne sono inventate queste cose, noi giornalisti, l'altro la si è inventata. Partiamo, io come tutti noi che facciamo questo mestiere ho sempre avuto una grande ammirazione per Oriana come giornalista come inviata. Diciamo come ideologa, io sono dalla parte opposta, comunque va benissimo. Il problema di Oriana, a prescindere dal fatto che vi piaccia o meno quello che lei scrive, ve lo riassumo così. Tra le fortune della mia vita io mi sono risparmiato il militare, perché proprio qui all'ospedale militare di Torino un generalone accettò quello che io avevo tentato di dire per mesi, che ero allergico ai vaccini, non voglio aprire qui un contenzioso sui vaccini, ma a militare ti piantavano il siringone nel petto e ti pompavano e io avevo subito degli shock, degli shock anafilattici per vaccino. Io ho detto io vengo a fare il militare però mi voglio vaccinare in un'università di Stato, quindi garantita dal Ministero, eccetera, sotto gli occhi di un anestesista, di un medico, che se vado in shock immediatamente mi fa la pera giusta e mi riporta in vita, perché lo shock anafilattico è niente o è tutto, non c'è una via di mezzo, no? Coglione, lavativo, finalmente via cos'era la regina Margherita, c'era il comando dell'ordine militare e medico di tutta la Pianuna Badana, un generale mi disse va bene, quindi mi ero risparmiato, riformato per ragioni di salute. Mi ha regalato una moglie, quando entra nelle stanze si diffonde quell'odore di giglio, come sai nelle storie dei miracoli, la fanno santa, perché una che sta con me da 49 anni è una santa, vi posso garantire assolutamente, moglie che ha contribuito moltissimo a questo libro per la prima volta nella mia vita, anche per l'incertezza dovuta all'età, il ricoglionimento, ogni capitolo che facevo leggere, lei diceva molto bello, fa schifo, lo riscrivevo, ricominciavo, è lungo, l'ho riscritto tutto grazie a lei, quindi una moglie fortunatissima, ho avuto finora tocco ferro dei figli che a parte le normali preoccupazioni, un paio di auto sfasciate, sono due figli straordinari, mi hanno dato sei nipotini delizioni, però il signore nella sua infinita senso della giustizia mi ha fatto passare due mesi con la fallace. Una cosa atroce, una donna insopportabile, povere insopportabile, e io racconto di questo nostro viaggio per 200 chilometri sulle rive del Golfo d'Arabia, del Golfo Persico, andando verso Kuwait City con la fallace e me che mi guardava odiandomi perché lei voleva essere la prima giornalista italiana a entrare a Kuwait City liberata per conto del Corriere e io ero concorrente diretto, ero Repubblica e quindi zac, avevo annullato tutto l'effetto del sono stata l'unica a entrare a Kuwait City. E quando finalmente arrivamo all'alba nella piazza principale della città, completamente deserta, sul mare, dove ancora sparavano ogni tanto arrivavano, scendiamo da questo bussino noi smarriti senza capire e da lontano vediamo correre una strana sagoma nera, una specie di sottanona nera che svolazzava, pensava, ma una donna? No, una donna vestita di nero, però aveva il capo scoperto che reggeva in mano una cosa, oddio sai mai cosa può essere una cosa lì. Questa figura si avvicina correndo gridando da lontano welcome, 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 mano a mano che si avvicinava, è un prete, è un prete con tutta la tonaca come non porta più nessun prete neanche da noi. Allora immaginatevi, città a Kuwait City, sultanato, arriviamo all'alba dopo mesi di occupazione, ci viene contro un prete che leggeva in mano un oggetto che si rivelò essere una caffettiera Bialetti. Viene verso di noi e con questa caffettiera Bialetti, io di fianco a Oriana, come sono di fianco a Oriana, gli dico c'è qualche bambino, ma chi cazzo è questo? Ma da dove arriva? E lui ha una bambù, ma sarà uno travestito, ma siete italiani, era pure italiano il prete, sono il vescovo di Kuwait City, scoprì allora, ignoranza mia, che c'era un vescovo cattolico a Kuwait City, perché c'erano un sacco di operai semischiavi filippini eccetera che venivano da paesi cattolici. Allora disse volete un caffè? Beh, eravamo in viaggio da 12 ore su questo furgoncino, dice sì effettivamente padre, tira fuori dalla sottana, tira fuori quei bicchierini di plastica come ti danno in aereo, no? Dolce o salato? E comincia a darci un pochino di caffè a tutti e gli spaziamo via tutta la caffettiera Bialetti. Poi dice avete fame? Beh, insomma, 11 ore che non mangiamo, forse un po' di fame. Di nuovo corre via, sempre con la sottana che gli svolazzava al vento, torna reggendo una scatola di waffer al cioccolato, non ricordo se osvego o saiva, ma insomma avete capito di cosa parlo. Arriva e dice posso offrirvi un waffer? Allora Mario Platero del sole 24 ore prende un wafferino, Oriana prende un wafferino, io prendo un wafferino, Mario Platero prende un altro wafferino. Insomma, alla fine gli abbiamo sparecchiato i wafferini in dieci secondi, questo povero uomo è rimasto senza niente. Dice pensate che li ho tenuti nascosti per sei mesi perché se no i soldati irachini mi li avrebbero sequestrati. Grazie, grazie padre. Quindi io ogni volta che vedo un waffer penso a che cosa? A Kuwait City, Organa Fallaci e io nella grande piazza mentre ancora sparavano le canonate. Ecco dove le cose hanno significato. E quel waffer, quella mattina, qui anche ci stringevo un po' perché continuavano a sparare, i combattimenti non erano finiti, c'era sempre il terrore delle armi biologiche, chimiche, il waffer fu il lato fresco del cuscino. Non mi mettete in imbaragno. Esattamente quel che dicevamo, la prima guerra del golfo, il mondo in guerra, finisce con un caffè nella bialetti e un waffer, saiva, o svega. Era il 92. Era il 26 febbraio del 91. 91. Ecco lì in questo racconto nel libro c'è, insomma Vittorio ce l'ha detto, ma c'è una battuta feroce su Oriana, quando dice Oriana aveva trovato l'elmetto. Certo, Oriana aveva, perché lei anni prima si era fatta fotografare in Vietnam con l'elmetto, con il soggolo, lasciamo perdere, comunque aveva l'elmetto e il suo sogno era entrare a Kuwait City con l'elmetto. Elmetti nuovi che erano gli americani, che sembrano un po' gli stormtrooper di guerre stellari, no? L'aveva trovato e io no. Allora gli ho trattato disparatamente di avere anch'io l'elmetto, gli americani mi andarono a quel paese e mi dissero vai chiedono agli italiani, ma figurati a chiedere l'elmetto agli italiani. Quindi non riuscivo ad avere l'elmetto. Ma in questo viaggio, credo che sia uno dei capitoli più divertenti, me lo dico da solo, queste strade sono nel deserto, il deserto lì, se ci siete stati lo sapete, non è il deserto di sabbia del Sahara, è un deserto di terra durissima, proprio veramente durissima, quando poi fa freddo diventa... c'è qualche rarissimo cespuglio che creava terribili problemi a Oriana, che era l'unica femmina che doveva fare i suoi bisogni e non sapeva dove andare. Eh, mica si poteva andare, il cespuglio più alto era una cosa così, quindi poveretta aveva quella sofferenza lì. In compenso, allora, si metteva dall'altra parte del pulmino, noi stavamo dall'altra parte per non guardare, non che ci fosse niente da vedere, ma lasciamo aperte. Lasciamo aperte. E c'era un collega inglese, quindi tu ne avrai visti facendo il mestiere che hai fatto, gli inglesi si vestono da inviato. Allora, bermuda, stivaletti del deserto con i calzerotti fino a qui, camicia color khaki, sariana, spesso a gilet, molto spesso cappello, tipo Indiana Jones, e infatti questo era un inviato rispettabilissimo, travestito da inviato di guerra. Anche gli inviati di guerra però devono fare la pipì. Allora, a un certo punto, ferma tutto e devo fare la pipì. Lui scende e la strada era in mezzo al deserto, un'autostrada a sei corsie, in mezzo al nulla, il mare di qua, il deserto di là, lui scende, però il bravo inglese era molto pudico, quindi si avvia nel deserto per fare pipì, girato, in modo che noi non potessimo vedere dettagli. Si avvia, si avvia, farà a distanza come da qui alla tenda, uno dei soldati, erano due soldati sauditi che ci accompagnavano, comincia a dire Ma che dici? Mines, mines, era un campo minato. Quest'uomo per fare la pipì si era serenamente avviato dentro un campo minato. Allora, tutti gli gridiamo, John, stop, stop. Lui camminava. What? Stop, fermati. Ferma e si gira e gli diciamo freeze, freeze, cioè congelati, stai come sei. Sei in un campo minato. Fece pipì istantaneamente, senza neanche tirarsi giù la lampo. Dopodiché, per fortuna, c'era stata come un po' di rugiada, quindi la sabbia qua e là si era un po' ammorbidita e si riconoscevano i suoi passi. Allora lui, metodicamente, passo dopo passo, ripercorse tutto il percorso mettendo i piedi nelle impronte, sapendo noi, suoi colleghi, ci eravamo tutti spostati, naturalmente, pensando fra di noi, chi farà il pezzo sull'inviato inglese soltanto per aria sul campo minato? Come lo trasmettiamo? Perché allora non c'erano i telefonini, no? Il 91 c'era. Quindi la grande preoccupazione era quella, e così come anni prima, anche quello racconto, seguendo il presidente Bush, eravamo in una città del Montana che si chiama Butte, c'era una tempesta di neve selvaggia, seguivamo il presidente Bush che faceva la campagna elettorale, il vecchio, Giorgio il vecchio, l'aereo presenziale, l'Air Force One, che ha questo tutto speciale, parte, noi giornalisti dietro con un catorcio di vecchio aereo, cadeva a pezzi, con le mutande appese ai fili dentro, che bisognava lavarsene di notte nei mottelli e poi appenderle. Questo aereo tenta di partire e non riesce, perché c'è un vento talmente forte che il vento arriva trasversalmente, adesso non voglio farvi lezioni aerodinamiche, io mi intendo molto di aerei perché sono un fifone, quindi ascolto ogni rumorino. Il vento trasversale impediva che i motori succhiassero l'aria, per cui i motori sparavano a vuoto e l'aereo non riusciva a decollare, prendeva velocità ma non abbastanza. Quattro, cinque, sei volte, alla fine un inviato della CBS americano da fuori di matto, comincia a dire paura, paura, fatemi scendere, fatemi scendere, moglie, figli, ma anch'io, ma moglie, figli. Allora il comandante diceva bene, si ferma, praticamente in mezzo alla pista, tirano giù, era un 19, tirano giù la scaletta di coda, lui scende, seguito dall'operatore, dal fonico, si mettono di fianco all'aereo e il comandante dice a noi che siamo rimasti a bordo, ci riproviamo? Io non ero entusiasta ma la maggioranza vince e decidemmo di partire. L'aereo si rimette in posizione, comincia a spuli i motori, di fianco a me c'era un giornalista della ABC, una delle catene concorrenti della CBS, come fa Contorai, 7 o cose, lo guarda e dice, guarda questo figlio di puttana, hai paura di morire? No, io so che morirò e quello stronzo fa il servizio sulla mia morte, con tanto di filmato dell'aereo che si incendia, quindi gli rompeva le scatole di morire e che aveva preso il buco dal concorrento. Voleva farlo scoop. Ecco, scusate, parlo sempre troppo, lo so, lo so. No, no, c'è, continuando nella disamina del canone zucconiano, c'è anche un altro elemento ed è, insieme, diciamo così, la celebrazione, diciamo del mito, del lavoro dell'inviato e insieme la sua demistificazione, insomma, lo svelarne, poi alla fine l'umanità, la miseria, ma insomma il fatto che bisogna anche far pipì e bere il caffè. Ma c'è anche questo racconto molto dettagliato nel giornalismo di Zucconi, c'è anche a proposito dei grandi. Lui ha citato prima questo episodio di Hillary con la sua spilla ed è la spilla che ha che diventa il pretesto per attaccare bottone, per farla parlare, eccetera. Ma io adesso vado, mi è venuto in mente in questo momento, onestamente non so neanche se hai citato, perché non l'ho letto tutto, l'ho scorso un po' così. Ma io ricordo un dettaglio del grande vertice a Reykjavik tra Reagan e Gorbaciov. Ah, come no, certo. Gorbaciov era lì da poco, era il secondo incontro, si erano incontrati a Ginevra e poi si incontrarono a Reykjavik. E si fonde un testa a testa, un faccia a faccia tra loro due, molto, e tu facesti un racconto. Siete mai stati in Islanda? No. Reykjavik non è una città, è un paese. Non riuscivano a trovare un posto dove tenere questo incontro. E c'era una casetta bianca proprio sul porto di Reykjavik. Un casetta, non so, c'era delle autorità portuali. E si incontrarono lì. La delegazione americana e quella russa, l'americana guidata da Ronald Reagan, quella russa guidata da Mikhail Gorbaciov. solo che le delegazioni erano numerosissime. E lì Reagan uscì con una proposta che sbalordì il mondo, la cosiddetta opzione zero. Cioè io mi disfo di tutte le armi e tutte le testate nucleari e tu pure, facciamo zero a zero. Cosa che colse di sorpresa Gorbaciov. Gli rispose di no perché dice ma allora devi anche togliere le guerre stellari, bla bla, non è questo che ci interessa. Però la proposta fu uno shock per tutti, sia per i generaloni sovietici sia per quegli americani. Tentarono di negoziare ma non c'era posto. E allora si incontravano dove potevano, negoziavano al cesso. Cioè c'erano due bagnetti per cui c'era il generalone, capo di domenica, seduto sul water. Quell'altro seduto, il russo sul bordo del bagno. Quell'altro seduto appoggiato al lavandino. Cioè questo negoziato sull'avvenire della guerra atomica si svolse nei gabinetti e Gorbaciov e Reagan a loro volta per avere una conversazione riservata si chiusero al cesso. Reagan e Gorbaciov. Io scrissi, questa cosa io la colsi, sentendo queste conferenze strampe inutili, come un dettaglio buttato via. Erano così intensi i negoziati, se il portavoce doveva incontrarsi anche nei gabinetti. Io dissi io ti benedico hai fatto il pezzo perché tutto il resto ce l'avevano tutti, sono i comunicati ufficiali, le agenzie, la televisione. E io ci feci proprio l'attacco del pezzo. Allora il caposervizio agli esteri era il mio amico Paolo Galimberti, il quale passa il pezzo, poi mi telefona e dice naturalmente ti sei inventato tutto. Dico ma Paolo come posso inventarmi una cosa di questo genere? Ma no dai. Il giorno dopo, anzi due giorni dopo, il New York Times fa un intero pezzo per raccontare i negoziati sul cesso. E io chiamai Paolo e disse adesso tu mi paghi una cena, una pizza, una birra, una bottiglia di whisky. Avevi ragione tu, è certo che avevo ragione io, come vuoi che mi inventi un dettaglio del genere? Quindi ecco, quello mi fece, perché dava al di là della scenetta che è divertente, Reagan sul cesso, voglio dire no, sono divertenti, dava il senso della tensione e dello shock che questa proposta aveva provocato. Di solito questi incontri sono tutti organizzati nel filo, per segno, tu ti siedi qui, io mi siedo là. No, questa è la sorpresa. Me lo dava molto più che una dichiarazione, tra virgolette, abbiamo fatto progressi ma stiamo incontrando ostacoli, auspichiamo. Quando vedete la parola auspicate sappiate che vuol dire che non succede niente. Abbiamo ribadito, se ribadisco non succede niente. Quello mi dava il senso del dramma di quell'incontro. A proposito di dettagli e di una questione che all'epoca fece anche un po' di controversa fu il racconto del primo viaggio di Boris Yeltsin negli Stati Uniti. Yeltsin era allora credo solo segretario dell'Oblast, era membro della segreteria, segretario dell'Oblast di Yekaterinburg. Però era un personaggio che già si capiva che era lanciato verso la sfida Gorbaciov e lì ci furono alcuni dettagli di questa visita che ti crearono dei problemi. Io ne ricordo uno, il bicchiere di lavandino pieno di whisky. Allora quella è una storia, io dico sempre perché una delle cose delle quali io mi vanto mi vengono spontaneamente, è che quando scrivo dei libri c'è sempre un elemento un po' di autoironia, cioè ho sempre il terrore, ho come una specie di freno dentro che mi dice non prenderti troppo sul serio. Tanto tra qualche anno nessuno si ricorderà più di te quindi non pensare di essere il centro del mondo. Allora io dico io ho vinto molti premi nella mia vita. Se posso usare una metafora molto comune in America è un po' sporca. I premi letterari e giornalistici sono come l'emorroidi, qualunque buco di prima o poi se ne becca uno. Non è carino però ahimè così, tutti abbiamo vinto un premio ai giornalisti. Io ho vinto molti premi per avere scritto delle cose che poi magari erano un po' massaggiate nella verità per dare colore. Ho passato infiniti guai per avere scritto degli articoli più veritieri della mia vita, questo vi racconta l'ironia di questo mestiere. La storia di Yeltsin è molto semplice. Yeltsin era il grande nemico di Gorbachev, stava molto sulle scatole agli americani, Bush non lo amava, gli americani erano tutti schierati con Gorbachev perché volevano una transizione dolce, lui viene negli Stati Uniti per farsi conoscere. Viene ricevuto molto di contraggenio con la mano sinistra e la casa bianca, ma proprio una cosa, sì sì caro, ciao ciao, vai vai. Dopodiché si scatena. Io conoscendo, lui era un russo sovietico, vero, allora ricordavo abbastanza bene che un russo importante lasciato libero all'estero perdeva la testa. Un bambino in un negozio di dolciumi. Leggo sul Washington Post una storia che lui, insomma, ci tirava parecchio, in particolare con il whisky, lui aveva molto il bourbon, Jack Daniels. E, ah sì, cita che lui aveva un interprete. Allora io ho detto, ma da chi possono venire queste informazioni? Forse dallo stesso governo americano che lo vuole mettere in cattiva luce. E questo intervento veniva dall'università che si chiama Johns Hopkins di Baltimore. Chiamo l'università, mi danno il nome di questa persona, si chiamava, mi ricordo il nome. Il cognome era Akzionova. In russo, come sai, il nome delle donne è il nome degli uomini con desidenza femminile. No, Gorbachev, Gorbacheva. Akzionov. Ma io conoscevo un Akzionov a Mosca. Era uno scrittore dissidente. Dico, gli scrittori che non valevano mica tanto, ma siccome erano perseguitati, sembravano importantissimi. Che era venuto in occidente, era riuscito ad andarsene, e si era portato la moglie. Questo Akzionov viveva vicino a un mio caro amico, gli conoscevano bene. Io vado a trovarlo, dico, ma si può parlare con tua moglie? Lui odiava Yeltsin, mi fa parlare con la moglie, la quale mi racconta tutti questi dettagli, che lui nella stanza del motel americano prendeva quei bicchieri di plastica da tubetto del dentifricio e se lo riempiva e si scolava bottiglioni, che andava nei supermercati e faceva razzie di jeans, allora andavano molto, i videocassetti, i primi DVD credo, anche con i film, lui amava molto Stallone, Rambo, tutti quei filmacci, no? E che era andato in giro, io scrissi per Yeltsin l'America era un banco da bar lungo 3.000 chilometri, perché dovunque andava si scolava una bottiglia di Johnny Walker. Scrivo questo pezzo, benissimo. Il giorno dopo mi chiama sempre Paolo Garimberti, abbiamo visto due anni intensi, dice complimenti, non sapevo che tu fossi un autorevole commentatore della Pravda. Gli dico Paolo ma che cazzo dici? Scusa, il tuo pezzo è in prima pagina, come direzione della Pravda, con il racconto. Allora, prima di tutto queste cose non si fanno, dovevano chiedermi l'autorizzazione, poi a quel punto io mi trovo in una condizione impossibile, perché per confermare la vernicità di quella storia avrei dovuto dire, me l'ha detta lui e la moglie, facendo perdere il lavoro la moglie che faceva da interprete per i pezzi grossi russi. Quindi ne parliamo con Scalfari e diciamo che non è vero che è stata una cosa così, eccetera. Gielcio è furibondo, il povero Mauro che era mosca veniva assediato dalla gente che dice Repubblica, volevano mettere a fuoco la sede di Repubblica, crocefiggere Ezio Mauro, eccetera. E quindi io dovetti mandar giù questo rospo di dire sì, no, la storia forse non è del tutto vera, un po' esagerato, eccetera. E poi la cosa finì. Qualche anno dopo, un nostro, perché l'accusa era, eh Zucconi lavora per il KGB. Gielsi non smentì mai, disse c'erano informazioni che nessuno poteva sapere. Come faceva a sapere del bicchiere, del... non gli venne in mente che c'era lì l'interprete, brutto, scemo, ubriacone. Anni dopo il nostro comune amico e collega Giulietto Chiesa, allora corrispondente dell'unità, vicino, comunista, andò a intervistare l'ex direttore del KGB, uno che aveva tentato il colpo di Stato appunto contro Yeltsin, Kručkov. Ah, come sta, come sta? D'arte un giornalista italiano, dice ma lei conosce Vittorio Zucconi? E Giulietto dice ecco ma abbiamo vissuto due anni insieme qui a Mosca, insomma. Ma la storia di Yeltsin l'aveva letta? Eh sì, l'avevo letta sì, ma sa che noi del KGB restammo sbalorditi, erano tutti i dettagli che noi conoscevamo, che abbiamo ottenuto segreti, ma come aveva fatto lui a tirare le voce? Allora mi chiama Giulietto Chiesa, anzi chiama anche Mauro, dice sai finalmente Zucconi è stato vendicato dalla storia, è la verità, facciamo un pezzo, dico ma che sei scemo, il direttore del KGB conferma quello che dico io così sembra che io lavorassi per il KGB, lasciamo i cani che dormono dormire, la cosa finì lì. Però è buffo, come dire, ancora adesso mi sento rimproverare alla storia di Yeltsin ed era vera nei più minuti dettagli compresi i titoli dei film che aveva comprato. Abbiamo finito, aggiungiamo la medaglia del KGB a Vittorio. Nelle redazioni c'è un modo di dire che ben funziona in questo riconto, che è non rovinare mai una bella storia con la verità. All'ultimo piano del palazzo della stampa di Washington, io avevo l'ufficio quando lavoravo per la stampa e c'erano tanti soldi da spendere, adesso non ci sono più, all'ultimo piano c'era un ristorante con un bar dove si trovavano tutti questi grandi giornalisti americani che lavoravano a Washington, New York Times, e c'era tra l'altro un tavolo fisso di poker, preceduto da un giudice in pensione, che dirimeva tutte le questioni, no ho messo io, ho detto vedo, non vedo, ed erano avanti 24 ore al giorno, e c'erano giornalisti che interrompevano, andavano su, e c'era il decalogo del giornalista scolpito in legno, appesa, non ricordo tutto, ricordo il primo articolo del Vangelo del giornalista, anzi la preghiera del giornalista, era, signore fa che i fatti non interferiscono mai con le mie opinioni. Va bene, io, visto che abbiamo cominciato e che poi lo spunto del lato fresco del cuscino e Trump, possiamo forse chiudere con una tua previsione, troviamo poi il lato fresco del cuscino. Sì, il lato fresco del cuscino con Trump è che comunque fra sei anni e mezzo se ne va via, cioè per male, 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 male che vada, fra sei anni e mezzo se ne va via, non ci sono santi, madonne, veti, se ne va via. In Italia entri in questi tunnel, dice cosa dura, vent'anni? Non si sa. Ma faccio una questione brevissima, se no andiamo avanti troppo a lungo. Quando lui fu eletto, e io dovevo scrivere qualcosa, anche se interessa sempre meno la politica estera purtroppo, o andavo in trasmissioni televisive, dovevo rampicarmi sugli specchi per spiegare ma come ha fatto l'America a eleggere Trump perché ha sconfiggio. Oggi finalmente non devo più fare fatica, ce l'avete qui Trump, avremo il governo Trump, lo voteremo in autunno perché tanti risultati saranno gli stessi se non ancora più netti, quindi guardate il successo del 5 Stelle, guardate il successo della Lega, soprattutto della Lega e capirete come e perché Donald Trump ha vinto le elezioni in America, con un sistema elettorale che è molto diverso dal nostro dove sei obbligato a vincere, cioè sapete che nelle partite americane di sport non c'è il pareggio, giocano fin quando muoiono, ma a basket, devono andare avanti fin quando una squadra vince. Lì il sistema elettorale è tale per cui uno deve vincere per forza, non importa che ci sono due elettori, tre elettori, io prendo due voti, tu ne prendi uno, tu sei presidente, da noi invece c'è comunque questa melassa, qualunque sistema, il porcello, il mattarello, quindi non ne chiamo, però la dinamica è esattamente la stessa, quindi guardatevi intorno e capirete che cosa ha prodotto Trump, come ha prodotto la Le Pen in Francia, con una sola differenza, che in America adesso mi ha un po' sedato la paura, anche senza il valium e le benzodiazepine, e in Italia meno, perché io ho un po' paura per l'Italia, che in America esistono davvero gli altri poteri, chiamali forti, chiamali come ti pare, ma esiste una magistratura realmente forte, indipendente e non tanto politicizzata, dico non tanto, la quale per esempio ha affermato alcune cose di Trump, il blocco alle frontiere per l'immigrazione, le hanno bloccato, esistono grandi università che sono dei potentati, dei castelli, esistono grandi finanziari, grandi banche che non amano Trump, che è un immobiliarista, che è una cosa diversa da fare il mobiliarista, esistono tutta una serie di poteri e di forze alternative che cominciano a battersi per limitare i danni, se danni fa, a volte limitano anche i vantaggi, non voglio giudicare, da noi non c'è niente, non c'è più l'avvocato in cima alla collina dove io ero invitato a mangiare, cosa che mi fece capire che questa città era una monarchia, se ti avvicinavi al re cambiava il panorama della città, Villa Frescott si chiamava, no? Si mangiava malissimo, e soprattutto pochissimo, pochissimo. Mi ricordo un vassoio di roast beef, tagliateci, sembravano carta venina, io essendo educato prendo una fettina, poi tanto fa un secondo giro, no? Quindi allora, giovane e vigoroso, questa fettina con due asparagini, mi ricordo che quando finalmente uscimmo, disse all'autista si fermi nel primo bar che troviamo, mi faccio un tostone, non ci sono più i potentati industriali, dove sono i potentati industriali, i potentati bancari sono stati stirati dalla crisi, stanno tutti con la teta, quindi qui il problema è che c'è l'esondazione ma non ci sono argini, là l'acqua può esondare però di argini ce ne sono, quindi per l'Italia sono un po' preoccupato. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie.